Gli NGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Germania nella zona sud-occidentale del paese, nel Wad Wuttenberg. Il sisma verificatosi alle ore 6, 13 minuti e 20 secondi ad una profondità di 16 chilometri è stato avvertito a Ballingen e Tubinga fino a Ottlingen e persino a Stoccarda. Il servizio sismico del Politecnico di Zurigo ha riportato che il terremoto è stato avvertito fino alla Svizzera orientale a circa 100 chilometri di distanza. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.